L'11 febbraio è di certo una data carica di significato per tutta la comunità di fedeli. Nel lontano 1992 fu istituita da Papa Giovanni Paolo II la giornata del malato, con preciso riferimento alla prima apparizione della Madonna a Lourdes. Una scelta, quella di far coincidere entrambe le ricorrenze, non casuale né solamente devozionale, e che sottolinea il rapporto vivo e imprescindibile che la Vergine di Lourdes ha con il mondo dei malati e con le istituzioni che operano in favore dei medesimi. Come ha spiegato il cappellano onorario della grotta di Lourdes, nonché cappellano dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, che in questa importante giornata ha ospitato l'Unitalsi per offrire assistenza agli ammalati. Oggi è un giorno particolare perché proprio era l'11 febbraio del 1858 che la Santa Vergine, era proprio un mercoledì, come oggi, che appare a Bernadette Subiru a Lourdes. Ogni 11 febbraio la Chiesa stessa celebra la memoria della Beata Vergine di Lourdes. Ogni anno noi siamo chiamati a celebrare Maria che ci conduce a Cristo. L'Unitalsi rappresenta in questo contesto il più grande punto di riferimento, un'associazione che da sempre offre l'opportunità a tutti coloro che lo desiderano di vivere un'esperienza forte di fede e di condivisione fraterna che lascia il segno nella mente e nel cuore. Da sempre impegnata nell'organizzazione di pellegrinaggi, intesi non come un turismo religioso mordi e fuggi, bensì un modo per offrire a tutti, e specialmente a coloro che vivono in difficoltà perché malati, anziani o disabili, il pellegrinaggio verso i luoghi più significativi della storia cristiana, perché cresca la speranza e si possa scegliere ogni giorno di condividere un cammino di solidarietà e amicizia. In occasione della ventitresima giornata del malato, oggi 11 febbraio, l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ha ospitato alcuni membri di tale associazione, Unitalsi di Ocesi di Pozzuoli, tra cui il presidente della sottosezione Flegrea. È una grande famiglia, è un'occasione bellissima per poter esternare quello che uno ha dentro. Sembra che noi in effetti ci interessiamo delle persone diversamente abili e degli ammalati. Diamo possibilità a loro di poter uscire di casa. In prevalenza noi li accompagniamo nei vari pellegrinaggi che ci danno una carica esagerata e riescono a trasmetterci l'amore vero. Noi quando ci avviciniamo a loro, perché in effetti noi siamo un'associazione a livello nazionale ma ecclesiale, quindi comunque portiamo la parola del Vangelo e come diceva Gesù, dove c'è un ammalato ci sono io. Quindi quando tu ti avvicini a loro, in quel momento è come se stessi al cospetto con Gesù. Un'esperienza che è riuscita a valicare anche quelli che sono i muri posti dalla generazione adolescenziale, poco vicini alla fede e fin troppo vicini al materialismo, che hanno riscoperto l'altruismo e la sensazione di benessere che si prova a essere di sostegno e di supporto per qualcuno. Quando arrivi lì, arrivi con il carico, cioè con la voglia di affidarti alla Madonna per pregare per te e invece poi ti ritrovi a guardare la sofferenza, gli ammalati, i disabili. Ti invito tutti i ragazzi, i giovani, invece di buttarvi nelle discoteche. Non pensate a queste cose, c'è ben altro nella vita. Queste emozioni valgono molto più di quello che voi vi aspettate da altro, insomma. Grazie a tutti.